Sara ha un viso ovale, carnagione di vastra e occhi castano scuro con un taglio molto particolare. Il desiderio di Sara era togliere i riflessi rossicci che avevano dato l'estate e il colore dei suoi capelli e modificare anche la misura del taglio. La nostra scelta è stata quella di effettuare Sensible Color, attraverso il quale abbiamo dato uniformità e profondità al tono di base utilizzando un castano profondo cenere. Per quanto riguarda il taglio abbiamo fatto un bob in diagonale anteriore con una frangia molto pizzicata, molto molto soddisfatta.